Non capita tutti i giorni di avere due onorevoli da poter ascoltare. Un incontro informale è diventato invece formalissimo tenendo conto di quanta gente c'è. La gente continua sempre ad ammirare di essere vicina. Iniziamo dal regionale e continuiamo col candidato sindaco. Ma guarda, io sono qua non solo per sostenere il mio amico Nicola Cristaldi, con il quale ho costruito un progetto politico che va oramai avanti da 30 anni. E come tutti i progetti politici abbiamo avuto momenti di tensione, momenti di scontro, momenti di incontro, momenti di confronto, però sempre nell'interesse di un territorio. Lui ha difeso sempre la politica regionale e la politica provinciale con vigore e con passione. La politica mazzarese poi è il sangue che lo fa bollire. E io sono fiero di pensare che Mazzara del Vallo possa avere un sindaco così. anzi ogni volta che ho litigato con Nicola Cristaldi è stato per Mazzara del Vallo, perché prima del suo interesse politico ha messo la città di Mazzara. Quando ero presente alla provincia ogni volta che c'era una cosa per Mazzara diventava una guerra. Nel senso o la facevamo presto oppure succedeva l'inferno fino a quando non si faceva. E questo significa che tu ti senti, non vuoi essere l'espressione di un territorio, ma ti senti appartenente a quel territorio. E io penso che Nicola Cristaldi abbia questa grande capacità. Quindi oggi noi facciamo questa campagna elettorale. Dal 9 di giugno cominceremo a lavorare per Mazzara del Vallo. Cominceremo a lavorare con ruoli diversi. Lui farà il sindaco di Mazzara, io farò il deputato della provincia di Trapani. Sono per ora un assessore regionale. Per me viene prima Mazzara del Vallo. Quando sono a Mazzara del Vallo e quando vado in altre città vengono prima le altre città. Però se quando vai in una città il sindaco ti capisce e si lavora meglio. Perché quando il sindaco non capisce niente capita spesso. La famosa entesa. Sindaco, diciamo così, lo sei stato per dieci anni. Una forte responsabilità quest'oggi. Nicola Cristaldi è un politico della provincia di Trapani in voga da 30 anni, anzi da 40 anni. Cioè significa, se attento, non è che si rimane per lungo tempo sulla scena politica perché si è fatto il sindaco per dieci anni. Nella sua lunga esperienza ha fatto anche il sindaco di Mazzara del Vallo. Quindi voglio dire... Io mi riferivo al prossimo mandato che è a ridosso. Era per questo che stavo dicendo. E allora, ritorno. Le responsabilità non ti piegano e non ti creano alcuna forma di problema. Quest'oggi però comunque anche la presenza di un amico sentito come l'onorevole Turano, insomma, rafforza non soltanto l'amicizia ma anche l'intento. Beh, innanzitutto non c'è soltanto l'amicizia perché quella è antica con lui, con papà suo. C'è un rapporto di grande cordialità da diversi decenni. A me piace che in questa avventura si sia sposato insieme un grande progetto, che è quello di dare a Mazzara del Vallo di nuovo una prospettiva strategica nel Mediterraneo, di misurarsi con realtà ben più importanti sotto l'aspetto dell'immagine ma non nella reale sostanza. E poi non ho soltanto l'ambizione di tornare a fare il sindaco della città. Io in questo progetto ho chiamato tanti amici, anche illustri, per poter disegnare una nuova classe dirigente della nostra città. A Dio piacendo spero di fare questi cinque anni di amministrazione come leader della città, ma al tempo stesso mi piacerà vedere che c'è anche chi potrà proseguire verso il cammino necessario per la nostra città. Se ho una cosa da rimproverare all'attuale classe dirigente che dirige la nostra città è proprio questa, quella di non aver capito che si sarebbe dovuto proseguire sul progetto che avevamo disegnato, che avevamo messo in cantiere. Purtroppo non è stato così, da qui l'obbligatorietà di un mio ritorno a una ricandidatura, con l'ambizione di tornare a fare il sindaco, di ripristinare dei bei rapporti. Mi piace che abbiamo inaugurato questo inizio di rapporto con l'assessore Turano, per le ragioni che ho già detto, ma anche perché Mimmo, lo dico con franchezza, è una persona che ha guardato sempre bene al nostro territorio e che ha avuto meno, dal punto di vista politico e elettorale, da questa città, meno di quanto lui ha dato alla città. Lo riconosco pubblicamente, quindi speriamo anche per momenti successivi di rimediare a questa piccola pecca. Ma per intanto, voi avete visto, non si tratta di persone raccolte per la strada, non ci sono curiosi qui, qui ci sono tutti grandi elettori, come sul dirsi, persone che sono nelle condizioni di dare un grande contributo attraverso una candidatura diretta o a sostegno anche di candidature indirettamente. Però c'è bella gente, sono persone che hanno capito il nostro progetto e che anche loro sono candidati a diventare classe dirigente di una città. Mi permetto di dire che oggi c'è una grande soddisfazione, tenuto conto anche del fatto di quanta gente è venuta. Era soltanto un incontro informale, ma è diventato qualcosa di importante. Mi doveva solo offrire un caffè, ora deve pagare il caffè qua in Mazzara. Ha comprato la macchinetta. Indubbiamente doveva essere soltanto un incontro per sigillare ufficialmente un sostegno al progetto, da protagonista dello stesso progetto, ma quando si fanno degli incontri e si assumono dei compiti, poi è naturale che ognuno vuole sentirsi in qualche modo partecipante dello stesso progetto. Quindi la presenza qui non è soltanto un atto di cordialità, ma anche una assunzione di responsabilità. E questo mi riempio di orgoglio. Assunzione di responsabilità, la spostiamo un attimo su un altro argomento che probabilmente la riguarda, ossia le elezioni europee. Vedremo Turano candidato? Guarda, io sono candidato alle elezioni europee. Poi, come tutte le elezioni, conteremo i voti e il risultato dopo il 9 di giugno. Però sarebbe un grande errore legare le elezioni europee alle elezioni amministrative. Perché io, no, 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 io voglio essere chiaro. Guarda, io sono una persona che ne ha viste di tutti i colori. Sono una persona che ha vinto tante volte e qualche volta ha perso. E ha sempre pensato di costruire esperienze positive. Quanto sia importante l'elezione di Mazzara del Vallo, voi non ne avete idea. Noi qua dobbiamo ricostruire una visione strategica di questo territorio. Dobbiamo pensare che Mazzara del Vallo non è una città qualunque del Mediterraneo. È una città che ha avuto la più grande flotta peschereccia del Mediterraneo. E io penso che se il cuore per ora, con le tensioni che ci sono, se il cuore del Mediterraneo, la Sicilia, Mazzara del Vallo è imprescindibile da questo progetto. Da Mazzara del Vallo passano progetti strategici per l'intero paese. E non sempre. Le amministrazioni che ci sono state hanno saputo capire qual era il ruolo di Mazzara del Vallo. Riprendere questo in questo momento è molto difficile. Se puoi riprendere questo ragionamento, significa avere un amico a Bruxelles che ti può aiutare a sostenere un'iniziativa, lo vedremo, lo decideranno i cittadini della Sicilia. Io ti posso dire che senza il contributo di tutta la Sicilia probabilmente non ce la faccio. E sto lavorando in tutta la Sicilia. Ma ti posso dire che il contributo di Mazzara del Vallo è determinante per le prospettive di Mazzara del Vallo. Ecco perché sostengo Nicola Cristaldi, ecco perché ho Pietro Marino con tutti i suoi amici, ecco perché sto questionendo una lista importante. Non lo faccio per i voti, lo faccio per la tutela del mio territorio. Anche perché poi ci saranno ancora altre scadenze. Quando una città è governata bene i risultati arrivano. Si può dire che oggi è iniziata la vera campagna del candidato sindaco Nicola Cristaldi in virtù anche della massiccia presenza non solo dei candidati ma anche dei curiosi? Sì, sì, assolutamente sì. Oggi abbiamo avuto il piacere di avere con noi l'assessore Mimmo Turano che come già si sapeva da qualche mese aveva aderito al progetto di Nicola Cristaldi. C'è molto entusiasmo nel progetto, molte persone che si avvicinano e questo significa sintomo di positività all'interno del gruppo. Siamo convinti che il gruppo crescerà ancora. Siamo pronti per andare al voto e siamo convinti e sicuri che Nicola Cristaldi sarà il prossimo sindaco della città di Mazzara del Vallo. Peppe Bonanno è quello che ha parlato, ho dimenticato di rappresentarlo e chiedo scusa. Gioselita D'Annibale, da oggi ci si responsabilizza di più per l'investitura anche di un onorevole regionale o bastava già l'impegno che c'era? La presenza dell'onorevole Turano oggi in questo piccolo incontro che è stato fatto e mi permetto di sottolineare che non c'erano curiosi. Tutti quelli che si sono avvicinati oggi sono simpatizzanti del nostro progetto politico e la presenza delle istituzioni a livello regionale è garanzia del fatto che a scendere in campo è la politica vera perché Nicola Cristaldi senza ombra di smentita rappresenta la politica vera a Mazzara e il progetto futurista è un progetto che sicuramente nel corso degli anni a venire farà nuovamente risplendere questo territorio così come era stato iniziato dieci anni fa purtroppo con una battuta d'arresto in questi cinque anni di sindagatura dove la politica si è ridotta a semplice approssimazione, a perdita di visione e se vogliamo anche, e sotto gli occhi di tutti, ad una perdita di vera e propria dignità e mi riferisco soprattutto al fatto che quando due soggetti presentano una mozione di sfiducia e poi vengono chiamati a ricoprire ruoli assessoriali ci troviamo dinanzi ad un contesto politico che davvero è un contesto politico che lascia molto riflettere e che quindi Mazzara ha bisogno di riscoprirsi nella sua dignità sia sotto il profilo politico ma anche e soprattutto come mazzaresi Quindi un cambio di rotta dal punto di vista politico diciamo che si cerca assolutamente la voglia di ritornare a fare una politica se così possiamo dire, tra virgolette, seria? Assolutamente sì una politica che intanto in prima battuta lo dico io personalmente perché sono candidato e se vorrei la fortuna di essere nuovamente consigliere comunale andremo a prendere tutti quei progetti che questa amministrazione ha archiviato e ha bruciato e mi riferisco in modo particolare al teatro all'aperto mi riferisco in modo particolare all'acquario che doveva nasce presso il nostro lungomare e poi andremo a rivitalizzare tutte quelle zone che ad oggi sono state totalmente dimenticate e mi riferisco al centro storico e mi riferisco alla spiaggia in città basta passare e vedere quello che c'è ad oggi nella spiaggia in città quindi significa che l'amministrazione attuale ha fatto altro e non si è dedicato ai problemi della città Quindi siamo pronti per questa battaglia? Noi siamo sempre pronti, siamo pronti ormai da cinque anni a questa parte perché la macchina dei futuristi non si è mai fermata e giorno dopo giorno siamo fieri ed orgogliosi di vedere come tanta gente si avvicina al nostro progetto tanta gente si rende conto che questo progetto politico è il progetto politico vincente anche perché l'onorevole Nicola Cristaldi non è certo nuovo allo scenario politico e quindi siamo sicuri che il risultato sarà quello che ci auspichiamo ormai da cinque anni a questa parte che è quello innanzitutto di riportare nuovamente l'onorevole Cristaldi alla guida del paese di creare quella che è nell'animo dei futuristi una nuova classe dirigente per poter proseguire negli anni a venire portando sempre avanti questo progetto che punta solo ed esclusivamente al territorio e soprattutto punta a ridare lustro ad una cittadina che veramente può diventare la perla del Mediterraneo permettetemi di salutarlo con affettuosità non sempre l'onorevole Turano si è trovato dalla mia parte in occasione di campagna elettorale ma è sempre stata una persona corretta è sempre stata una persona che ha meritato il mio rispetto poi lo saluto anche affettuosamente perché ero presidente dell'assemblea regionale quando l'assessore Turano era giovane deputato un po' spaesato ha imparato subito devo dire la verità ma ha avuto il mio affetto perché intanto è un figlio d'arte io sono amico di papà suo che è stato un grande sindaco di Alcamo un grande esponente della democrazia cristiana quella di allora non quella di oggi che viene spacciata come DC saluto l'onorevole Turano e lo ricordo anche come presidente della provincia io ero sindaco di questa città e bisogna dire che con il presidente Turano abbiamo fatto delle bellissime cose a cominciare ad esempio dalla strada che da Mazzara porta a Torretta Granitola porta la firma dell'onorevole Turano, del presidente Turano se voi camminate per il lungomare vedete la rotonda la rotonda è stata fatta in compartecipazione per metà è stata a carico del bilancio comunale e per metà a carico della provincia se voi camminate ancora e arrivate per esempio dentro il portocanale vedete la chiatta quando c'è perché questa amministrazione lo fa a intermittenza e vedete la chiatta voi sapete che la chiatta è stata fatta per metà a carico del bilancio comunale e per metà a carico della provincia e devo dire che durante la mia amministrazione c'erano i due simboli il simbolo della città di Mazzara del Vallo e il simbolo della provincia questa amministrazione ha deciso di cancellare il simbolo della provincia per cui questo mi sembra un atto scorretto da questo punto di vista se camminate ancora più avanti voi trovate anche che ci sono due banchine che sono state rifatte una banchina è stata fatta con il bilancio con il progetto del comune di Mazzara del Vallo l'altra banchina è stata fatta con la provincia paradossalmente è la banchina della casa paterna dell'attuale sindaco Quinci perché lì c'erano i topi di una certa dimensione adesso invece c'è una bella banchina mi permetto di dire che allora questo lavoro è stato anche possibile farlo grazie al ruolo avuto dall'assessore Duilio Pecorella che era un po' la calamita delle nostre iniziative e anche una sorta di piccolo amplificatore che spingeva il nostro Presidente Turano a soddisfare le nostre richieste lascio stare le piccole cose e quindi caro Mimmo a me piace che si creino le condizioni perché questa collaborazione riparta intanto con il tuo ruolo di assessore regionale poi si vedrà che cosa succederà del tempo l'assessore Turano come tutti noto ha una bella squadra nella nostra città e ha deciso di sposare il nostro progetto e volevo ringraziarti pubblicamente ragazzi ti posso dire una cosa di Nicola Cristaldi ho appreso tante cose lo dico senza timore di essere smentito io nel 96 quando mi sono candidato per la prima volta sono arrivato in assemblea e lì ho trovato Nicola Cristaldi che era che ho votato Presidente dell'assemblea ora l'assemblea è una cosa complicata difficile non è una cosa che si gestisce con facilità io vi posso garantire che dopo 30 anni ancora si ricordano di Nicola Cristaldi Presidente dell'assemblea è stato un grande presidente con il quale ho avuto momenti di intesa e momenti di scontro ma perché è normale non litigare con Nicola Cristaldi per forza bisogna litigare con Nicola Cristaldi però tra le tante cose che abbiamo fatto assieme è stato non un patto di mutua assistenza ma quello di avere sempre la schiena dritta e non la piegare e questo è stato uno dei tanti insegnamenti che prima mi ha dato mio padre e poi Nicola in assemblea su alcune battaglie dove ci poteva essere un interesse politico di parte non si piegava per l'interesse del territorio lui ha ricordato tante cose che ho fatto quando ero Presidente dell'assemblea e quando io ero Presidente della provincia io non devo ricordare niente di quando lui era Presidente dell'assemblea perché le cose le faceva lui però io lo guardavo lo ammiravo e capivo cosa dovevo fare nella mia attività politica prima vengono i territori e nei territori bisogna scegliere le persone migliori che hanno la capacità di amministrare e una visione su questo io mi sono confrontato con Pietro non ho nessuna difficoltà a dirlo quando abbiamo fatto un progetto per le elezioni europee abbiamo parlato anche di un progetto di Mazzara del Vallo e oggi siamo qua a cominciare questa campagna elettorale complicata però noi la affrontiamo serenamente e la vinceremo e quando la vinceremo dovremmo cominciare a costruire un progetto per rigovernare questa città con la visione e con la prospettiva di costruire un meccanismo che dia a Mazzara del Vallo l'autorevolezza che aveva un tempo Mazzara del Vallo io penso che per una città autorevole come Mazzara del Vallo serve un sindaco autorevole come Nicola Cristaldi lo dico con franchezza sono venuto qua a costruire un progetto e a contribuire a costruire una prospettiva per questo territorio Nicola grazie bene, bene, bene